Inclusività, parità di genere, trasparenza, ma anche miglioramento delle prestazioni ambientali e sociali. Si parla di questo e molto di più nella terza edizione della settimana della sostenibilità di Confindustria Veneto-Est fino al 22 marzo al Move Hotel di Mogliano Veneto. La sostenibilità ha bisogno intanto di situazioni come questa, nella terza settimana della sostenibilità, di contaminazione, contaminazione che viene fatta tra il mondo delle aziende, le imprese, i loro collaboratori, il mondo delle scuole e quindi gli studenti e i professori, il mondo delle istituzioni, dell'amministrazione comunale e il mondo della finanza e il startup per i giovani. Contaminazione tra diversi mondi e protagonisti, sono tantissimi infatti gli incontri, seminari e workshop in programma e tra i 47 eventi in programma spazio soprattutto al confronto sui grandi temi di attualità come ad esempio la sostenibilità in chiave europea. Dobbiamo assolutamente ricalibrare gli obiettivi e i traguardi che dobbiamo porci, uno su tutti, un esempio che abbiamo avuto di recente è sul tema degli imballaggi dove se si sceglie una linea, se si sceglie un obiettivo, se si sceglie una visione bisogna mantenerla, lavorare con le aziende, lavorare con chi ha le competenze e non cambiare obiettivi in corso d'opera. In questa fase è stato fatto un buon lavoro tra l'altro proprio da Confindustria, nel nostro territorio con Confindustria nazionale e con i politici europei e quindi si è raddrizzata la barra nella giusta direzione. Una giusta direzione quindi che parla di sostenibilità a tutto campo. Un Veneto che sia sostenibile e da un punto di vista ambientale, ma che sia sostenibile anche da un punto di vista economico e sociale, perché altrimenti l'ambiente senza queste due caratteristiche diventa uno slogan che non serve a nessuno. Noi stiamo lavorando con Confindustria da mesi, da anni, per dare a questo Veneto un'economia che sia sostenibile da tutti i punti di vista e i risultati sono evidenti sotto gli occhi di tutti.